Ciao, bentrovati, oggi vi porto a visitare un bellissimo tempio che si trova a due passi da Kazan Road, qui c'è questa piazza che ho già attraversato in altri video e laggiù, oltre la curva, proseguendo, si arriva praticamente a Kazan Road. Questo è un tempio molto molto bello a mio avviso, è un tempio reale cosiddetto di primo grado, guardate quanto è bella questa stupa gigante dorata. Adesso andiamo a visitarlo all'interno, vi dicevo, è un tempio reale di primo grado e fu voluto durante il regno di Rama III e costruito fra il 1824 e il 1832. Il tempio si chiama Vat Owon e anticamente, originariamente erano due complessi di tempi che poi sono stati unificati. Andiamo a vedere l'interno, vi dicevo a me è un tempio che piace particolarmente. Qui c'è un ingresso laterale, annessa al tempio c'è anche una scuola. Andiamo a vedere l'interno. L'interno c'è invece la grande stupa dorata, andiamo a vederla. Il complesso, vi dicevo, è piuttosto grande perché di fatto erano due tempi che poi sono stati unificati. Riprendo l'uscita, concludo questo video invitandovi a visitare assolutamente questo bellissimo tempio qui a due passi dalla Kaosan Road, tanto che ci siete. Vi saluto, continuate a seguirmi sul mio canale YouTube e naturalmente alla mia pagina web www.yutailandia.it Ciao!